Roma, città ospitale, è chiamata ad affrontare questa sfida epocale nel solco della sua nobile storia, ad adoperare le sue energie per accogliere e integrare, per trasformare tensioni e problemi in opportunità di incontro e di crescita. Roma, fecondata dal sangue dei martiri, sappia trarre dalla sua cultura, plasmata dalla fede in Cristo, le risorse di creatività e di carità necessarie per superare le paure che rischiano di bloccare le iniziative e i percorsi possibili. Questi potrebbero far fiorire la città, affratellare e creare occasioni di sviluppo, tanto civico e culturale quanto economico e sociale. Roma, città dei ponti, mai dei muri. Non si temano la bontà e la carità. Esse sono creative e generano una società pacifica, capace di moltiplicare le forze, di affrontare i problemi con serietà e con meno ansia, con maggiore dignità e rispetto per ciascuno e di aprirsi a nuove occasioni di sviluppo. Con queste parole Papa Francesco a Roma questa mattina in visita al Campidoglio è tornato a mettere a fuoco alcuni tra i temi centrali del suo pontificato, del suo magistero sociale, superare le paure, ha detto abbattere i muri, costruire i ponti, ma soprattutto non avere timore della bontà e della carità. Obiettivi questi più volte indicati dal pontificio e proprio nelle riflessioni dedicate all'impegno dei cattolici in politica. E di questo parleremo oggi pomeriggio qui a Siamo Noi con l'aiuto dei nostri ospiti che vi presento subito, a partire da Salvatore Martinez, Presidente nazionale del rinnovamento dello Spirito Santo. Benvenuto. E grazie a Marco Damilano, Direttore dell'Espressa, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Ed è collegato con noi dal Capoluogo Emiliano, da Bologna, l'Arcivescovo della città, Matteo Zuppi. Monsignor Matteo Zuppi, grazie di essere con noi. Ben ritrovato. Monsignor Zuppi, io vorrei ripartire da lei, ben arrivato, e vorrei ripartire dalle parole di Papa Francesco che abbiamo appena ascoltato, a cominciare da quell'invito, un rinnovato invito, a non avere paura della bontà, della carità, dunque della nostra identità cristiana ed impegnarci per costruire ponti e abbattere muri. Volendo semplificare parecchio, in un certo senso questa è la sfida principale che si pone ai cattolici che intendono farsi sentire, intervenire nel dibattito pubblico e tornare a impegnarsi nella politica? Direi certamente, anche perché la sfida della bontà vuol dire intelligenza, la bontà vuol dire determinazione e la bontà vuol dire tutt'altro che un buon sentimento che poi lascia spazio facilmente al cattivo sentimento. La scelta della bontà è la scelta di non accettare delle situazioni di ingiustizia, non rimandare, non far pagare il conto agli altri, non credere che uno possa star bene da soli, da solo. La scelta della bontà è combattere l'individualismo per esempio, ed è tutt'altro che buonismo. Io sono preoccupato quando si mette tutto nel calzerone del buonismo, quindi l'umanità diventa buonismo. L'umanità è un'altra cosa e appunto richiede la bontà. Il buonismo non è una caricatura, non è una deformazione, ma la soluzione non è il cattivismo, la soluzione è una scelta forte di bontà e credo che questo appello del Papa sia importante per tutti, tanto più per chi ascolta il Papa in quanto cristiano e cattolico. Ecco, Monsignor Zuppi, non essere neutrali di fronte al male e in qualche modo rendere visibile il contenuto della nostra fede cristiana socialmente e politicamente visibile. Qual è il secondo grande impegno, se possiamo dirlo, la seconda grande sfida sociale e politica cui devono guardare i cattolici che desiderano contare in politica? La sfida? La sfida è quella di una politica che metta davvero al centro la persona, che abbia come l'unico interesse la persona. Quindi la vita degli uomini, la convivenza, la civitas, l'idea di comunità. Questa è la vera sfida. Molte volte la politica ha la P minuscola, per riprendere il libro di Truffelli del Presidente dell'Azione Cattolica, molto minuscola, cioè dettata dall'interesse immediato, dalla convenienza, spesso da una convenienza personale o di gruppo. Dobbiamo al contrario pensare alla P che abbia la persona al centro, quindi la persona qualunque essa sia, non c'è uno prima, uno dopo, è una cosa che quando c'è al centro la persona è quell'altro e si combatte tutto ciò che offende, che limita la persona. E l'ultima cosa, forse la sfida è di uscire dalla campagna elettorale. Io sono veramente preoccupato del fatto che quando la campagna elettorale non la fanno soltanto i politici e quello poi genera tutto un livore, un modo antagonista, digitale, elettrico, di rispondere ai problemi senza capirli. La politica è capire i problemi e sempre, ah certo che sia, non c'è dubbio, la campagna elettorale alla fine è per incazzare qualche cosa, la politica è per guardare lontano e permettere a tutti di trovare le risposte insieme alle sfide così importanti che dobbiamo affrontare. Ed è appunto un'idea che dovremmo tenere sempre ben presente. Però Martinez, costruire ponti, non muri, dice il Papa, oggi l'ha ripetuto con grande fermezza, con grande decisione, ma secondo lei quanti cattolici italiani oggi condividono questo invito di Papa Francesco, perché insomma se ne sentono tante, no? Tanto grazie di questa opportunità e se mi è permesso sono appena tornato dal Messico, vorrei dare un'applicazione concreta e direi al confine del Messico, Monterrey, dunque siamo laddove si progetta la costruzione di un muro. Al di qua e al di là del muro che si vorrebbe costruire ci sono due cristiani, ancor più due evangelici, i due presidenti del Messico e degli Stati Uniti. La lezione di Papa Francesco, che è una lezione che in nome del cristianesimo risulta universale, non soltanto ai cattolici, ci dice che l'amore, lui ha detto non abbiate paura, timore della carità, della bontà e della carità, per i cristiani è il vincolo sociale. Dunque non c'è altro vincolo sociale che è l'amore per il prossimo, che diventa principio di fraternità, principio di uguaglianza, principio di tolleranza. Dunque la questione è al di là del muro chi ci sta se non riesce a stare al di qua degli egoismi, delle intolleranze e di tutto ciò che sta... Questo vuol dire che i cattolici non possono avere una posizione diversa, questo sta dicendo? I cristiani non possono avere una posizione diversa se hanno e chiedono ancora credito all'idealismo cristiano. È una contraddizione in termini. I ponti non sono soltanto la capacità di costruire insieme, ma è la capacità di vedere oltre ciò che il muro non ci dà, tutto ciò che manca e che completa il mio essere uomo. L'amore del prossimo è sostanzialmente questo. Dunque c'è un deficit di fede assai forte e c'è un deficit di moralità assai forte quando in nome del cristianesimo o dell'ideale cristiano noi non solo non costruiamo ponti, ma eriggiamo muri, muri che stanno davanti alla nostra coscienza sociale. Questo deficit di fede evidentemente richiede un lavoro che precede la politica, pre-politico e in questo senso Marco Damilano io vorrei mostrare al nostro pubblico la copertina dell'ultimo numero dell'Espresso. Ho 18 anni, sono fascista, voto Salvini. Si tratta di una inchiesta molto interessante sui movimenti politici giovanili di destra, poi sulle aspirazioni sovraniste, sui legami con Salvini. Vorrei chiederti se a tuo giudizio c'è un collegamento tra lo svuotamento evidente, accade insomma da diversi decenni, degli oratori, delle parrocchie, diventare meno rilevante della fede, dell'orientamento cristiano nelle giovani generazioni e poi appunto questa propensione verso la destra, nel senso che in qualche modo la crisi che vive la Chiesa si rivela anche una crisi di formazione etica, sociale, politica che prima era assicurata ad altri processi ecclesiali. È una domanda molto interessante e ti ringrazio anche per far vedere la copertina nel nostro giornale. Un grande Papa, Paolo VI, oggi anche santo, diceva che la politica è la forma più alta di carità. Però dicendo questa frase non intendeva dire che la carità, la bontà, la speranza, la pietà sono direttamente un programma politico, perché tra questi sentimenti che si possono coltivare e per fortuna avendo anche idee politiche molto diverse, poi c'è quello che è la sfera della politica, soprattutto in un ambito democratico. La sfera della politica è l'organizzazione, è quello che hai appena detto, è la formazione, è la formazione anche di classi dirigenti che non significa il Presidente della Repubblica, significa anche andare preparati in un Consiglio di zona, in un Consiglio di istituto, in un Consiglio comunale e poi naturalmente via via in un Consiglio regionale, in Parlamento, il Parlamento europeo dove si voterà tra poco e con una cultura politica. La caratteristica dell'Italia è stata che a lungo c'è stata una cultura politica dei cattolici che non era semplicemente trasferire nell'ambito politico i valori della fede, ma era una cultura politica molto precisa, il personalismo cristiano di Meunier, l'umanesimo integrale di Maritain, una tradizione che parte da Sturzo, poi passa da De Gasperi e arriva a Moro, che è la costruzione della democrazia, che significa stare insieme ad altri, il pluralismo, i corpi intermedi, l'amitezza come metodo, il dialogo, ecco, questi sono valori politici e non più prepolitici, che direi da molti anni non sono più, negli oratori, nelle parrocchie, nei mondi del volontariato, nelle associazioni, se ne parla veramente molto poco e questo sicuramente tra i tanti motivi ha lasciato anche spazio a una cultura che, cito il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, l'ha scritto domenica, brandisce la Chiesa come una mazza ferrata ed è uno dei problemi, perché brandisce la croce, se la croce diventa una mazza ferrata da momento di unità diventa momento di divisione. Sottolineatura. Sentiamo cosa ne pensa Monsignor Zuppi? La mettiamo ancora a fuoco. Don Matteo, che ne pensa di questa affermazione da Milano? Sono d'accordo, la politica richiede equilibrio, richiede capacità per esempio di comporre delle divergenze, richiede per esempio, appunto, prendiamo l'amitezza come grandi virtù. Il contrario, se vogliamo, è quel discorso che facevo prima della campagna elettorale permanente, oppure di un'idea appunto digitale, di apparire, di contare, di dimostrare. La politica vuol dire anche la capacità di ascoltare l'altro, di trovare la soluzione giusta, di decidere anche, ma non decidere usando la croce né qualsiasi altra cosa come corpo contundente, ma come determinazione di una ricerca di bene comune. Insomma, sono d'accordo e credo che questo è un grande impegno, che è una grande domanda che viene posta ai cristiani e ovviamente ai cattolici. Una grande sfida. Sentiamo invece che cosa ne pensano i nostri telespettatori coinvolgendoli con Simone. Sì, e lo facciamo con una domanda ben precisa. Secondo voi oggi un cattolico deciso a prestare il proprio servizio in politica, su quali temi dovrebbe impegnarsi con maggiore urgenza? Insomma, dite la vostra, sull'argomento, vi lascio i nostri contatti, la nostra mail, siamo noi, chiocciolatv2000.it, il nostro numero whatsapp 348 30 70 345, oppure c'è sempre il nostro numero verde a vostra disposizione, 822 88 96, o semplicemente venite a trovarci sui nostri social, vi aspettiamo. Grazie Simone. Monsignor Zuppi, più di una volta, penso anche al convegno ecclesiale di Firenze, Papa Francesco ha rivolto ai cattolici l'invito a tornare ad impegnarsi in politica, naturalmente la politica quella davvero con la P maiuscola. Un invito che peraltro parlavamo di giovani prima, incrocia quello ai ragazzi di non guardare la vita dal balcone. L'ha definito un impegno non solo necessario ma anche urgente. A suo giudizio, nel pensiero di Papa Francesco, questa urgenza da dove arriva? Arriva da tante cose, ma io penso sicuramente da due. Una dalla sofferenza, c'è tanta gente che soffre e la politica deve aiutare a vincere le cause della sofferenza, quella dell'ingiustizia, quella che provoca dei disequilibri, che non permette di rispondere alle domande, quindi senz'altro la sofferenza. L'altra preoccupazione di Papa Francesco sono le occasioni perdute, cioè il discorso che lui ha fatto per esempio all'Europa e quindi anche all'Italia, e dice voi avete tanto sostanzialmente, dovete sognare se no diventate vecchi, ma togliete qualcosa agli altri. C'è la considerazione che le opportunità non restano, non le metto da una parte e le prendo quando voglio, a un certo punto non ci sono più. Credo che la scelta è dire che non posso perdere l'opportunità, quindi la sofferenza dei tanti poveri, i disequilibri, l'ingiustizia e poi non perdere l'opportunità. Sono tanti temi su cui Papa Francesco coinvolge i cattolici e l'impegno dei cattolici in politica, penso alla migrazione, penso all'ambiente, insomma davvero tante le questioni. Ma chi accusa il Papa di essere troppo politico? Ma questa è una... E per me? No, è per Damilano. Ma questa è un'antica accusa... Ma è un'accusa antica che si fa a tutti gli uomini di chiesa che non considerano la chiesa separata dalle cose del mondo. Siamo all'indomani, abbiamo ricordato due giorni fa l'omicidio di Monsignor Oscar Romero che è un santo della chiesa cattolica ed è un vescovo che proprio da vescovo cominciò a denunciare gli assassini e le violenze degli squadroni della morte e lo accusavano di essere comunista o comunque di fare politica. Ancora sempre in questo mese cito invece una figura italiana, Don Peppe Diana, è stato ucciso 25 anni fa a Casal di Principe e aveva scritto una lettera dove citava la scrittura per amore del mio popolo non tacerò. Quindi ogni uomo di chiesa che non tasce sul suo popolo, sul suo paese, sullo stato delle persone di cui si prende cura, viene accusato di fare politica e viene accusato di essere di parte. Io direi che c'è un altro problema semmai. servirebbero dei laici? Loro sì di parte perché chi fa politica è di parte, lo diceva anche Don Sturzo. Chi fa politica è di parte, ecco, quello sì servirebbe qualcuno che facesse politica da laico e a quel punto si potrebbe prendere delle accuse che invece troppo spesso ingiustamente ricardono sui pastori e perfino sul Papa che coprono un vuoto. Martínez, sì stavo pensando ai cattolici pensanti e ai laici e all'impegno che li attende insomma anche di fronte al male, anche a questo accettare come ineluttabile il male e la disuguaglianza insomma questo ci interroga tutti come cristiani. Questi inviti ripetuti di Papa Francesco insomma hanno avuto un effetto anche tangibile nella sua vita perché hanno portato anche ad un impegno molto rilevante, la nascita di un'associazione prima che tra il nome dal laudato sì dall'enciclo di Papa Francesco, tra poco ne parleremo, e di un'associazione. Io prima di entrare in merito vorrei chiederle se questa svolta, diciamo questa spinta verso un impegno pre-politico anche, nasce da una motivazione personale del suo essere cristiano o si incrocia col suo ruolo peraltro di primo presidente, se non sbaglio laico, del presidente nazionale di rinnovamento nello spirito? Credo bisogna ripartire da ciò che diceva da Milano. Quando Sturzo proclama nell'appello ai liberi e forti la confessionalità del Partito Popolare italiano non sta a dire l'ateismo dei laici in politico nella società. Questo è stato il primo grande problema dal quale noi dobbiamo ripartire. E a Firenze il discorso di Papa Francesco trascurato e archiviato e che invece è fonte di grande ispirazione. Ci ridice la stessa lezione che cento anni fa l'appello ai liberi e forti attesta, e cioè che prima di un programma politico il Paese ha bisogno di un programma sociale. Sturzo lo precisa fortemente, anche l'idea di fare un partito era una idea che Sturzo soffriva perché la cattolicità, l'universalità dell'umanesimo cristiano è per tutti, ecco perché si appella anche agli uomini di buona volontà e non soltanto ai credenti. Ma i credenti devono avere il Vangelo nel petto, diceva Sturzo, e se possibile devono mostrarlo attraverso la loro vita. La parola cristiano per Sturzo è indice di moralità pubblica. Dunque cristiano è il calore della moralità pubblica che si assicura alla nostra gente. Ci sta dicendo che da qui partiamo dall'attualità di Sturzo, del suo appello ai liberi e forti, tra l'altro solo i cento anni da quell'appello con cui nasciva. E bisogna ripartire da lì, cioè a questo punto non ci si può non ritrovare solidali intorno ad un disegno di corresponsabilità che tutti i laici, non soltanto in risposta all'appello di Papa Francesco, ma ai bisogni dei tempi, oggi come cento anni fa, sono chiamati a rispondere. E noi invece ripartiamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità per continuare a parlare del rapporto tra cattolici e politica. Tra poco. Bentornati siamo noi, nuova puntata dedicata al rapporto tra cattolici e politica. Per provare a capire quali siano stati negli anni gli elementi distintivi di questa esperienza politica, gli ostacoli incontrati e i possibili sviluppi futuri, il nostro Gavino Pala ha incontrato nei giorni scorsi il professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università del Sacro Cuore di Milano. Ascoltiamo. I cattolici hanno iniziato in Italia il loro impegno politico a seguito dell'appello ai liberi e forti di Luigi Sturzo e di altri fondatori del Partito Popolare che in questo modo hanno avviato un servizio, diciamo così, dei cattolici all'intero paese. Dunque non più una realtà separata dal resto della società italiana come era accaduto precedentemente a seguito dell'Unione Espedita, non più cattolici che difendono i loro interessi o le loro posizioni anche legittime, ma cattolici che si assumono la prospettiva dello Stato nazionale, cioè la prospettiva di tutti sostanzialmente. E questo è il filo conduttore che certamente ha ispirato anche la democrazia cristiana, un partito che è stato un partito di governo per tantissimi anni e in questo senso davvero possiamo dire è stato il partito italiano per eccellenza raccogliendo tante spinte e tante esigenze diverse. La Pira all'interno di questa storia rappresenta una figura molto interessante perché ha allargato gli orizzonti al di là dei confini nazionali con una grandissima sensibilità per i paesi in via di sviluppo, diremmo, quelli dei paesi emergenti dell'Asia e dell'Africa, cogliendo come i cattolici e l'Italia o se vogliamo la Chiesa nel suo complesso anche, dovessero e potessero svolgere un'azione di promozione di questi paesi, un'alleanza insomma fra ricchi e poveri, fra nord e sud del mondo, che poi è diventato un tema sempre più cruciale negli anni successivi. I cattolici in politica scontano due resistenze opposte ma alla fine convergenti, le resistenze al loro interno di coloro che dicono che i cattolici non devono impegnarsi in politica, che devono andare d'accordo con tutti perché fare politica significa scegliere, significa che prende delle posizioni e quindi c'è questa resistenza. E poi c'è la resistenza di coloro che invece non considerano i cattolici in qualche modo pienamente adeguati alla vita pubblica perché in qualche modo frenati dalla loro appartenenza a una comunità, il legame con la gerarchia, le loro regole morali che seguono e insomma tutto quel armamentario dell'anticlericalismo che vorrebbe in qualche modo mettere a tacere anche la voce dei cattolici. Il nostro paese oggi ha un bisogno disperato di ritrovare le ragioni dello stare insieme perché oggi viviamo in una stagione di violente contraposizioni, una stagione di odio, una stagione in cui continuamente viene emergendo la figura del capo espiatorio identificato di volta in volta con lo straniero o con l'immigrato o con qualcun altro. Tutto questo porta a una grande frammentazione che alla fine indebolisce tutti. Si parla molto di sovranismo ma in realtà c'è una debolezza della sovranità proprio perché il paese è così diviso. Da questo punto di vista l'apporto dei cattolici secondo me è molto importante perché l'apporto dei cattolici è un apporto che unifica, è un apporto che spinge al dialogo, che spinge ad abbassare i toni, a eliminare come dire appunto le contrapposizioni più violente, a comprendere anche le ragioni di chi è marginato. Ecco in tutto questo noi vediamo già oggi che le voci dei cattolici nella stampa, nella televisione in realtà stanno già in qualche modo conducendo una battaglia importante per una riqualificazione della vita pubblica che non tutti piace ma che credo vada sviluppata ulteriormente con più coraggio. Monsignor Zuppi dice il professor Giovagnoli che c'è un ruolo dei cattolici nell'aiutare in qualche modo a ritrovare le ragioni dello stare insieme e dunque a contrastare l'eccesso di polarizzazione, la frantumazione, ma questo a suo giudizio con quale percorso e quale esperienza è la più adeguata perché questo accade, accade perché ci sia un riconoscimento di questo ruolo dei cattolici? Ma i percorsi credo che... chiariamo subito, qualcuno parlava di un partito cattolico, di un nuovo schieramento, giustamente prima da Milano diceva poi a un certo punto c'è una preoccupazione di tutti e poi ci sono le parti, cioè la convinzione che poi porta a delle scelte, a delle indicazioni che possono essere anche diverse ma che devono nascere da un'unica visione, da un'unica preoccupazione. Credo che questa è la vera scelta, condivido anche quando Giovagnoli diceva c'è un bisogno disperato di questo perché si vince la paura non col coraggio perché uno appunto, come diceva quello non solo da da solo, ma si vince la paura guardando avanti, trovando verso dove andare, capendo quali sono le risposte, la paura è un segnale ma dopo bisogna dare delle risposte sicure, delle risposte che ecco, credo che questo qui è il ruolo, quindi non un partito ma una sensibilità, una preoccupazione, una determinazione che poi può trovare delle diverse risposte. Però Martínez, da un lato abbiamo l'unità dei cattolici sui valori, dall'altra la possibile divisione invece sui percorsi politici anche, è questa roba qui che allessa particolarmente a cuore la formazione struziana, tutta questa roba qui come la spiega ai ragazzi che formate e labora il percorso di formazione politica che avete promosso, come l'ha spiegata? Beh intanto c'è bisogno di costruire delle nuove leadership, San Giovanni Paolo II diceva che nel tempo della crisi e viviamo una profonda crisi morale e spirituale, i capi non si improvvisano. I capi hanno anche tradito, i capi per me sono i padri, c'è un'eclissi di autorità, di padri, di credibilità estremamente forte. Ma guai a pensare che i nostri mondi siano residuali, se l'incidenza sembrerebbe effettivamente di poco rilievo, i nostri corpi intermedi sono ancora ricchi, il nostro è un paese che più che raccontare le povertà emergenti non sa raccontare le ricchezze negate, basta uscire un po' fuori dall'Italia per rendersi conto quanti doni, talenti, carismi ci sono ancora nel nostro cattolicesimo, ogni giorno. Allora cosa fare? Ce l'ha detto Papa Francesco, torniamo a far dialogare tutte queste ricchezze, accademica, popolare, sociale. Attenzione, Sturzo sbarca nel 1919 ma lavora 14 anni per la costruzione di un prepolitico che torna a far dialogare tutte queste realtà. Allora in primo luogo dobbiamo tornare a dialogare, a far dialogare tutte queste realtà. In secondo luogo dobbiamo investire su una nuova generazione e prepararla adeguatamente perché sappia interpretare laicamente, perché questa è la grande sfida, quel gran portato che ci deriva dal cristianesimo e dall'umanesimo cristiano. Con uno sguardo lungo che va oltre le tornate elettorali. E le competizioni elettorali, evidentemente. Damiano, prima tu dicevi, ricordavi il ruolo della democrazia cristiana, sappiamo come è finita questa storia, insomma i cattolici che si sono distribuiti un po' a destra, un po' a sinistra. Secondo te quello che divide, o che il fattore che può essere potenzialmente divisivo tra i cattolici è il collocarsi a destra o a sinistra o altre sono le ragioni? No, ma io come dicevo prima, l'ha ripreso anche Monsignor Zuppi, io credo che la fede sia una e le opzioni politiche siano tante. E credo che anche la formula unità sui valori che è stata un po' la formula che è stata utilizzata dopo la fine della democrazia cristiana, diciamo dal convegno ecclesiale di Palermo in poi, dal 1995 in poi, per cui si diceva i valori, la vita, la famiglia, la scuola, l'accoglienza, ci tengono uniti, poi le opzioni sono diverse. Credo che sia una formula che vada rivista, vada rinnovata. La fede tiene uniti, le opzioni politiche sono diverse. Questo è un valore in sé rispetto a ideologie politiche che oggi direi a destra, c'è stata anche una stagione in cui questo avveniva a sinistra, ma oggi a destra, nella secolarizzazione tendono a dire una cosa rispetto alla quale credo un cristiano debba ribellarsi, che la città di Dio coincide con la città dell'uomo. No, la città dell'uomo non coincide con la città di Dio. La città dell'uomo è imperfetta, è parziale, può avere delle cadute, delle sconfitte, delle corruzioni. La città di Dio è incorruttibile. Ci hai dato un bellissimo tema per una prossima puntata. No, e allora tutte quelle ideologie secolarizzate che dicono che invece la società perfetta si può fare qui in nome di Dio sono delle ideologie violentamente anticristiane e oggi questo viene detto soprattutto a destra, fammelo dire, credo che qualcosa che c'è nel convegno di Verona, c'è l'idea che quell'idea di famiglia debba coincidere esattamente con le leggi dello Stato. No, tra un'idea, un ideale e le leggi dello Stato c'è uno spazio che è lo spazio della laicità e oggi chi fa politica da cristiano dovrebbe difendere più questa idea, questo spazio, piuttosto che dire i miei valori devono essere esattamente quelli della società altrimenti gli altri sono nemici del popolo, nemici di Dio. Questa è una riflessione, Martínez, cruciale direi, questa dello spazio della laicità che poi incontra l'identità cristiana, insomma è tutto qui. Ma anche il rapporto tra naturale e sovrannaturale. perché è vero che è imperfetta la città degli uomini e non sarà mai realizzabile l'ideale nella misura in cui noi stessi aspireremmo a realizzarlo e di qui le mediazioni ma la correzione nell'ordine sovrannaturale diventa decisiva e dunque ritorna il grande tema di come l'identità cristiana oggi venga giocata in nome delle ideologie che oggi sembrerebbero sembrerebbero imperare ma che ci dicono invece quanto sia necessario l'idealismo cristiano. Il discorso è complesso però la crisi delle ideologie, e Sturzo vive invece in un'epoca dove le ideologie rappresentano la massima espressione, ha determinato la crisi dell'idealismo cristiano ed è da lì che dobbiamo ripartire. Se abbiamo un po' o meno di un minuto vorrei sentire su questo Don Matteo Zuppi, Monsignor Zuppi. Ah, condivido, condivido molto le due analisi sia da Milano sia di Martinez, li saluto tra l'altro. credo che c'è una visione e una capacità che il mondo cattolico e i cattolici devono avere laicamente di interpretare, di conoscere, non si può vivere di superficie o anche di pensare a soluzioni facili. C'è una situazione complessa ma la si vince con una grande idealità, con tanta intelligenza, con tanta conoscenza e quindi anche con la determinazione di trovare le soluzioni, di rispondere alle necessità. Per questo condivido molto. Ecco, bello che abbiamo continuato ad associare bontà e intelligenza, Martinez abbiamo proprio concluso, però ricorrono i cento anni dell'appello ai liberi e ai forti di Don Sturzo, dal 14 al 16 giugno a Caltagirone, dove insomma si è svolta parte dell'azione fondamentale di Don Sturzo, accade qualcosa. Brevemente che succede? Sì, rimettiamo i 12 punti di questo appello, perché si parla dell'appello ma poi non si legge il programma, sono 12 punti a base di una grande riflessione comune, inviteremo tutti i mondi che si riconoscono in questi temi per fare 12 sessioni nelle quali torniamo a dire che se questo appello è attuale deve essere anche in qualche modo attuabile. Dal 14 al 16 giugno a Caltagirone, noi invece torniamo domani come sempre puntuali alle 15 settembre. Grazie a tutti i nostri ottici, a domani. Grazie. Grazie. Grazie, è stato un piacere.